il tavolo ragazzi vi devo dire il tavolo il tavolo sono sicuro voi siete sicuri eccoci il tavolo il tavolo dai dai ce la possiamo fare è già passata la fame da dove venite ragazzi da dove venite da dove venite dove è lo sposo da verona eccolo qua guardate come si avvicina eccolo qua no no era troppo allegro questo eccolo ci siamo è arrivato tra noi bellissimo scintillante ragazzi è intrapolato dentro una cosa strana ecco giustamente vi suggeriscono dalla regia vi suggerisco dalla regia una gran testa di cazzo bravissimi si vede che gli volete attenzione questo sono in droppa eh attenzione si vedono anche parti proibite bellissimo e come si chiama come si chiama Giuseppe Beppe fulmine fulmine perché fulmine eh perché non si fa un fulmine da piccolo perché dura venti secondi perché viene subito perché viene subito eccolo qua arriva come un fulmine arriva eccolo qua abbiamo ecco di nuovo incappucciato perché bisogna proteggerlo questo eh attenzione questo è in grado di ingravidare solo con lo sguardo eh fulmine è un ragazzo molto aperto ecco quando ecco chiuso è molto trapanato eccolo qua hai qualcosa da dire no 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 Peppino tu non parli niente? boh! Peppino ha detto anche Spermino giusto? ecco Spermino ovvio che sì ragazzi vedo 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 che provate eccoli qua la carellata di amici sono usciti tutti dallo zecchino d'oro però hanno trovato chiuso eccolo qua bellissimo il nostro Beppe detto fulmine il ragazzo protetto da tutte da tutte neanche il WWF ce lo protegge questo ciao ragazzi ciao da Peppino il fulmine ciao 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 ciao